Eccolo. Porco, cane, porco. L'ha rifiutato. Dopo aver slamato il luccio, proviamo con sempre un artificiale galeggiante che ho visto che funziona. Dai, vieni su. Eccolo. Ah, è andato via. Porca paletta. Eccolo. 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 Ciosa. Eccolo. 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 Grazie a tutti. Wow! E questo dove esce? Grazie a tutti. Guarda che sveglia. Dai... Dai... C'è un piccolino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che pezzo dà paura. Grazie a tutti. Basta. Oh! 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 Cazzo Questo è un gran pezzo Sono molto apatici oggi Non so mica perché Oggi proprio gira malissimo Guarda qua Visto Niente Basta Il cane è agitato Che pezzone Quella pappa Ma non è pappa Questa è piccola Senti Però non morsicarlo Senti 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 Guardate che pezzo Questo è un gran pezzo ragazzi Fai un sorriso Cheese Gran pezzo Full timer pesca Non delude Allora